Capitolo 4 Saxa e Huaman, Peru, il bagno gelato I riti dell'acqua, prima parte Ho compiuto 5 viaggi in Peru Posso dire di averlo percorso tutto dal deserto settentrionale di Ciancian alle linee di Nazca dalle rive dell'oceano Pacifico al Cusco dal lago Titicaca al Machu Picchu Fin dall'inizio l'universo mi volle inviare un compagno di viaggio e spesso maestro Jimmy Parada Calderon fratello andino che porterò per sempre nel cuore Fu lui ad aiutarmi ad entrare in Bolivia salvandomi dai contrabbandieri di cocaina e fu ancora lui ad accompagnarmi nei luoghi più sconosciuti e impervi delle ande peruane come Saiwiti o la corona ventosa di Oiantai-Tampo per sperimentare l'energia dei siti sacri della tradizione andina Eravamo soliti, Jimmy e Dio camminare a lungo sulle montagne sopra Cusco nell'immensa area cerimoniale di Saksaiwaman condividendo esperienze e intuizioni e celebrando cerimonie nei luoghi dove sentivamo forte il potere della paciamama In realtà a 4.000 metri lui camminava io arrancavo stoicamente dietro di lui Un pomeriggio camminammo per 5 ore circa sulla montagna Jimmy voleva condurmi ad una grotta sacra l'ahuaca arcoiris l'allacuyo nella lingua tradizionale andina Durante il percorso alcuni cani aggressivi e ringhiosi mi vennero contro impegnando fortemente la mia volontà per non darmela elegantemente a gambe All'inizio i cani erano due ma via via che proseguivo, molto lentamente se ne univano altri, provenienti da chissà dove A un tratto mi trovai completamente accerchiata da quei cani che scoprivano le zanne sbavando verso di me erano otto La cosa incredibile è che ignoravano completamente lui Il terrore mi paralizzava Jimmy però non sembrava per nulla impressionato e mi sgridò moltissimo quando sentì che dalla mia bocca uscivano aggettivi poco amorevoli verso i quadrupe dilatranti Il mio compagno mi costringeva a proseguire Non capisci? disse con tono di palese compassione come fosse una cosa evidentissima Sono le tue paure che danno corpo a questi cani Se torni indietro dovrai ritentare più avanti non puoi scappare dal tuo destino Cercando di mettere faticosamente un piede davanti all'altro costrinsi me stessa a proseguire Gli istanti divennero eterni e nonostante avessi chiuso gli occhi e avanzassi aggrappata alla sua mano sentivo l'alito fetido dei cani vicinissimo a me camminavo piano, con gli occhi chiusi, cercando di scomparire fino a che, dopo un tempo eterno in cui ero quasi annegata nel mio stesso terrore Per qualche strana alchimia realizzai che davvero quei cani erano le proiezioni delle mie paure A un tratto sembrò anche a me molto evidente Fu come svegliarsi da un incubo Ancora adesso non ricordo come andò esattamente Se i cani se ne andarono o se smisero di ringhiare È certo però che smisero di spaventarmi Semplicemente non li vidi più E ripresi a marciare con passo spedito e rinnovata energia dietro al mio fratello Andino Finalmente arrivamo all'Allacuyo sul dorso della montagna Era esattamente come lo ricordavo Un torrente d'acqua proveniente dal ghiacciaio Fuoriusciva ruggendo dalla roccia Sotto ad una grande caverna Che rappresentava un utero Dove gli antichi andini Eseguivano riti iniziatici nella natura Come tutte le popolazioni native Jimmy mi aveva già condotta in quel sacro luogo Due anni prima E mi aveva fatta entrare bendata Nel ventre della montagna Con i piedi nell'acqua gelata E le scarpe legate al collo L'impresa si era rivelata estremamente difficile Poiché l'interno della roccia era stretto E si poteva camminare solo piegati in due Inoltre le pietre sotto i piedi erano scivolose L'acqua gelida toglieva sensibilità E mordeva la carne E gli occhi bendati Contribuivano a rendere il tutto ancora più instabile Ricordavo esattamente quella prova Come cercassi di aggrapparmi a qualunque appiglio che non c'era Come cercassi di non scivolare sui sassi viscidi Inciampando nei miei stessi pantaloni arrotolati E come lo insultassi per avermi trascinata in quella situazione Mentre lui rideva a crepapelle E mi rifaceva il verso Comprensibilmente tremavo all'idea di dover rifare l'esperienza Ma Jimmy mi tranquillizzò con la sua solitaria sorniona Non mi avrebbe fatto ripetere lo stesso rituale Infatti questa volta mi fece spogliare completamente C'era il sole ma la temperatura dell'aria nella primavera peruana Che corrisponde al nostro autunno era intorno ai 9 gradi Poi Jimmy si spogliò a sua volta Mi prese per mano entrando nel ruscello E mi fece immergere completamente insieme a lui Nell'acqua gelida Che si depositava in una piccola cavità Formando una specie di vasca Dopo aver lottato con la paura dei cani Non mi era rimasta abbastanza energia Per avere paura anche dell'acqua gelata Non ebbi altra scelta che seguirlo Nel torrente Agganciata dalla sua mano Che stringeva la mia Come la morsa di un fabbro Per tre volte consecutive Mi fece accucciare nell'acqua E rialzare nell'aria fredda insieme a lui E ad ogni immersione mi fece purificare Gridandola fuori Una parte della mia esistenza Prima mi fece abbandonare il karma Poi il passato E infine il futuro Nel senso di aspettative e proiezioni Il gelo era insopportabile Eravamo a quasi 4.000 metri Ero completamente nuda Immersa nel ghiaccio sciolto Entrando nell'acqua pensai che sarei morta Invece ne uscii completamente rinvigorita Il mio corpo era forte Bello e splendente Come mai nella mia vita Non avevo più paura di nulla Ripercorrendo La strada a ritroso I cani non c'erano più Insegnamento La purificazione rituale In acqua fredda Anche quella volta Riportai dal viaggio E dall'esperienza personale Un insegnamento Che oggi Costituisce una pietra angolare Della mia vita di sciamana L'importanza dell'acqua come mezzo Per viaggiare tra le dimensioni È cruciale Avevo ricevuto indicazioni specifiche Anche durante il viaggio in Giappone Quando la voce che mi guida Mi disse L'acqua sarà il mezzo Dal 1995 Anno in cui pubblicai Insieme a Gigi Capriolo Il libro L'energia segreta dell'acqua Ad oggi L'acqua periodicamente Si è ripresentata nella mia vita Fino a raggiungere un ruolo Assolutamente predominante Da sempre Gli antichi si purificavano Nell'acqua Prima di contattare gli dèi O prima di un rito Io Ho trovato in ogni parte Del mondo antico Ciò che resta Di enormi vasche rituali Dedicate alle sacre abluzioni Dalla città pre-inca di Ciancian Nel deserto nord peruano Agli enormi barai di Ancora In Cambogia Dai senotes sagrados Nello Yucatan Alle grotte Rapanui Sotto ai vulcani Dai nilometri egizi Agli onsen giapponesi Dai mikve ebraici Ai pozzi sacri sardi Nell'antichità Non esisteva rito Senz'acqua Con queste nuove informazioni Dunque Cominciai a celebrare Riti nell'acqua Prima per me sola Poi con mio marito E poi per altri camminanti Il rito consiste Nel compiere Un'immersione sacra In acque gelide Di laghetti purissimi Di montagna Per purificare Il passato Il futuro E il karma In una triplice immersione Come feci con Jimmy Sulle ande Perché il futuro? Perché questo Non è nient'altro Che una proiezione Del passato Su quello che La fisica organica Di Giuliana Conforto Chiama l'orizzonte Degli eventi Che come un uovo Ci circonda Dandoci l'illusione Che il nostro film Personale Sia la realtà L'acqua gelida Dona al corpo Una sferzata Di vitalità E longevità Aiutando coloro Che si immergono A diventare Sempre più saldi Nella convinzione Della propria Possibilità Di rinascita E sempre più lucidi E forti Il gelo dell'acqua Dona salute E bellezza Contradicendo decisamente Le normali credenze Limitanti Sul colpo di freddo Che ci farebbe venire Il raffreddore Figurarsi che Nel nord Europa Escono dalla sauna E si gettano Nella neve Per alzare Il sistema immunitario Proprio grazie Allo sbalzo repentino Di temperatura Naturalmente Anche questa volta Non vi sono certezze La via del risveglio Delle memorie sciamaniche È una via empirica Sperimentale Istintiva Possiamo solo fidarci E affidarci E osservare i risultati Naturalmente Alcuni diranno Che ha tutto un placebo Ma Che importa Se funziona Tutto quanto È placebo Tutto Anche ciò Che la scienza Chiama Risultati di laboratorio Dipende Dipende Da chi guarda Da chi osserva Dalle sue aspettative Possiamo solo Fidarci E affidarci E osservare i risultati Il corpo Va forgiato come una spada Per renderlo sempre più forte E temprato Le mollezze non gli fanno bene Continuate ad ascoltare Fiduciose E fiduciosi E avrete nel prossimo capitolo Altre informazioni Sui riti d'acqua E avrete nel prossimo capitolo E avrete nel prossimo capitolo E avrete nel prossimo capitolo